Ciao ragazzi e benvenuti nel mio canale. Oggi vi mostro un mio viaggio fatto nel 2014 da Ancona fino a Venezia. Anche in questo caso si tratta di una sequenza di immagini fotografiche perché all'epoca non possedevo una videocamera. Il percorso è facile e facile, adatto a tutti. L'unica salita è il Colle San Bartolo tra Pesero e Cattolica, ma è una bella strada panoramica, a volte anche a picco sul mare. Quindi tra vari tratti di piste ciclabili e vari lungomare ho viaggiato sempre lungo costa e sono arrivato a Chioggia dove ho preso il traghetto per Pellestrina e poi un altro traghetto per Lido dove ho campeggiato. Infine, l'ultimo traghetto per arrivare al tronchetto da dove poi sono rientrato a casa con il treno. Vi auguro buona visione e vi ringrazio e se i miei video sono di vostro interesse vi invito ad iscrivervi al mio canale, a mettere un like e ci rivedremo presto anche con altri video, anche video normali, non sequenze di immagini fotografiche. Ciao! 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 Ciao!